Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Pronti per l'apertura, questa è la pattuglia agrobatica nazionale Il 4.5 a posto trasforma le 4.5 in un'altra configurazione. Alla stessa velocità della voce i piloti eseguono i comandi che il loro capo in formazione chiave si portano alla sommità 1500 metri, puntano verso il passo, dal passo sale il solista della Fattoria Estratatica Nazionale, innesca l'apertura delle due sezioni per la manovra dell'Arizona che va a ricordare l'importante luogo dove... Grazie, era... Via, via la rotazione dei gregari esterni, siamo simmetrici. Via, via! Ancora rotazione dei gregari esterni, il cambio è tutta la configurazione delle frecce piccolori, sono di pronte a voi. Via, via! 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 Scattate la foto, scopritelo a casa, ora! Grazie! Grazie!